Per far vivere la montagna bisogna offrire servizi di prossimità. E' questa la filosofia applicata da Confcommercio Belluno che ha aperto uno sportello di servizi e assistenza alla Monna. Quest'area, che è vicino a Feltre, ma in ogni caso è un po' decentrata, ecco che ha un servizio in più fornito da Confcommercio Belluno. I nostri associati, ma anche coloro, come persone, possono adesso utilizzare tutti i nostri servizi, dal servizio sindacale al servizio di contabilità e paghe al servizio del patronato e al servizio di aiuto finanziario attraverso l'impresa Veneto. Il territorio va curato e noi cerchiamo di fare questo con tutti i territori della provincia di Belluno. Motivata soddisfazione da parte della sindaca Ornella 90. Per noi è importantissimo avere questo nuovo servizio nel nostro territorio. In un periodo in cui si tende a togliere i servizi dai piccoli paesi, questo è un grande segnale invece di credere in un territorio che può avere le possibilità per crescere e per dare migliori prospettive ai propri erediti. L'inaugurazione si è chiusa con la benedizione degli uffici da parte del parroco Don Giorgio Aresi.